Buone notizie per i cittadini abruzzesi che potranno risparmiare sulla spesa per l'energia elettrica. Con la delibera 297 la regione Abruzzo infatti si prefigge l'obiettivo di sostenere e promuovere la nascita delle comunità energetiche sul territorio finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla coesione economico sociale e allo sviluppo economico del territorio. Le CER sono forme di associazioni non commerciali di famiglie, piccole e medie imprese, denti territoriali compresi comuni che condividendo uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile. Consiste nel far sì che i cittadini possano unirsi in dei gruppi e produrre energia elettrica da fondi rinnovabili per l'autoconsumo. Questo è il senso, consumare quello che si produce, produrre quello che si consuma. È un modo per centrare le tematiche della transizione ecologica e quindi è un modo per proiettare la nostra regione verso il futuro. Bisogna costituirsi in modo autonomo in dei gruppi che possono essere sia di iniziativa pubblica o iniziativa privata, quindi possono essere imprese, cittadini, condomini, possono essere enti locali che si uniscono e praticamente producono questa energia rinnovabile e nel momento in cui la immettono la prelevano. L'unico vincolo è che comunque il 40% dell'energia, almeno il 40% dell'energia prodotta deve essere destinata all'autoconsumo. La restante parte può essere quindi messa direttamente in rete.